Continua la sequela di furti e i danni dei supermercati ed esercizi commerciali ragusani. Domenica sono state ben tre le persone denunciate nel solo capoluogo ibleo. In un brico center la polizia ha fermato una coppia di coniugi niscemesi proprio mentre stava per uscire dal locale. Nella borsa della donna sono stati rinvenuti diversi articoli casalinghi per un valore commerciale il cui ammontare è ancora in corso di quantificazione. La coppia è stata denunciata per furto aggravato. Nel pomeriggio di domenica invece gli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno denunciato per la seconda volta nel giro di due giorni una 22enne rumena per furto ai danni di un locale supermercato. Determinante lo spirito d'osservazione di un poliziotto della sezione volantica e libero dal servizio ha notato la ragazza mentre si accingeva a passare dalle casse senza aver preso nulla. Nella borsa della giovane c'erano invece alcune confezioni di vriussel del valore di poche euro. La ragazza è stata ridenunciata per furto aggravato. La ragazza è stata ridenunciata per furto aggravato.